Il periodo dell'Accademia Navale è stato sicuramente uno dei periodi, per quanto riguarda la formazione, uno dei periodi salienti della formazione di chiunque, non solo del sottoscritto. L'Accademia Navale è un'alma mater, è un'istituzione molto importante per formare e addestrare in parte questi giovani allievi, questi giovani candidati che si presentano alle porte su questo viale dei Pini famoso, questo viale d'ingresso. Ma il punto è che molti all'epoca, parliamo del 1966, addirittura noi siamo entrati il 6 novembre 1966, quando ci fu l'alluvione di Firenze che era avvenuta un giorno o due giorni prima, il 4 o 5, ma gli esiti li abbiamo avuti anche su Pisa e su Livorno per questa alluvione che è stata tragica per tanti punti di vista. Comunque noi iniziamo, io iniziai la storia, la mia storia marinara con le stellette, il 6 novembre quando iniziò l'anno accademico a Livorno, all'Accademia Navale di Livorno. Quindi raccontare la storia dell'Accademia mi è molto facile da certi punti di vista, allora non è stato così facile, perché la vita era dura, la disciplina era piuttosto severa, però avevamo tutti, secondo me, lo spirito giusto. Ho citato il 66 perché vuol dire che eravamo in pieno sessantottismo, sessantottini, eravamo immersi nel 68, quindi con tutte queste idee dei giovani di contestare l'incontestabile per certi versi, sicuramente per contestare, io ricordo sempre, lo ricordavo anche i miei allievi, il senso dell'autorità, cioè che non era più accettato, o era difficilmente accettato. Per gli allievi che allora entrarono in quell'arco degli anni in Accademia, invece il senso dell'autorità, il senso anche direi paterno, comunque di un'autorità istituzionale, era un master, era veramente un aspetto saliente per tutti quanti noi, che anziché la contestazione si voleva un mondo più ordinato, più orientato a un senso del dovere sicuramente, a un senso del sacrificio, a una comunità coesa, quindi siamo entrati con questo, io credo la maggior parte di noi, con questo intendimento, con questi begli intendimenti, cioè di formarsi, costituire, ripeto, un buon spaccato di cittadini disponibili per servire, self before everything, avrebbe detto l'ammiraglio Birindelle, cioè effettivamente disponibili per essere al servizio della collettività, dello Stato, delle istituzioni, della libertà che oggi è tanto invocata, ma spesso non così mi pare seguita. In ogni caso, gli anni dell'Accademia, posso dirlo allora, anche perché poi ho avuto la fortuna per altri diversi anni, diversi anni di frequentare quell'ambiente, e quindi di conoscerlo ulteriormente, non solo d'allievo, ma a distanza di una decina d'anni anche come responsabile dei corsi, come direttore dei corsi, di tutti i corsi degli allievi, e poi per altri 8-10 anni di essere il comandante di questa meravigliosa e prestigiosa struttura. L'Accademia, in due parole, ti forma, forma una compagine coesa, ti forma anche se eravamo già perché a 18 anni o a 20 anni, eravamo sicuramente già formati, ognuno aveva una sua personalità, un suo modo di pensare, che veniva sicuramente mantenuto, cioè nessuno pensava di andare nei campi, andare a modificare ciò che quei ragazzi pensavano, ciò che noi pensavamo, però avevano costituito, avevano inserito nel nostro DNA un aspetto fondamentale, che era quello di servire la collettività, di essere una compagine unita, che servì di formarsi secondo quel metodo mazziniano dell'istruzione più educazione, ma con un giusto bilanciamento fra l'istruzione, fra lo studio, cosa che facevamo, e facevamo anche abbastanza bene, e l'educazione, cioè lo spirito, diciamo, valoriale di tutti quegli ideali di cui eravamo noi stessi portatori, devo dire, però ci formava lo spirito dell'Accademia di allora, ma anche che ho vissuto poi nei successivi periodi in maniera un po' diversa, perché diverso era l'incarico, un conto d'allievo, un conto da responsabile dei corsi, un conto da con l'altra Accademia, però c'era a fattor comune un elemento, cioè che l'Accademia ha continuato a formare nello spirito questi giovani in maniera con, secondo quello che sta stampato sulla torre dell'orologio dell'Accademia, in questo piazzale allievi, c'è questa torre, patria e onore, diciamo con un senso di patria e con un senso dell'onore che ha, diciamo, alimentato, credo, tutti gli allievi la vita, non solo il sentire, ma anche il comportamento della vita di ognuno di questi, degli allievi, miei compagni di corso, miei comilitoni, sia lì che nel futuro. La vita in Accademia non è stata facile, come dicevo, perché intanto c'era una sveglia abbastanza antelucana, poi venivamo, adesso le cose sono cambiate, ma si veniva, si andava in piazzale, si incominciava quella che era chiamata la ginnastica mattinale, dopo aver fatto il letto, il cubo, che doveva essere fatto in maniera perfetta, altrimenti che succedeva? Beh, c'erano subito gli aspiranti, il guardia marina, che erano addetti al controllo, oppure i sottotenenti, eccetera, che la prima cosa che uno prendeva era, minimo, erano cinque giri di barra, di barra, che è, cinque giri, cioè il giro di barra, era la punizione standard, che aveva uno scopo, diciamo, sì, leggermente punitivo, perché si doveva andare su questo brigantino interrato, il cappellini, e fare, cioè salire sulle griselle, salire in cima alla coffa, fino a fare il giro completo dell'albero, diciamo, di maestra. E i primi tempi non era molto semplice e molto così appetibile farsi questi giri di barra, soprattutto quando poi si imbarcava sul Vespucci, che uno vedeva che col giro di barra, dove continuava al tipo di, chiamiamola di punizione, che era una punizione, cioè uno alla fine della giornata ne raccoglieva di giri di barra, perché bastava o che si dimenticasse di salutare un superiore, o che facesse una qualunque sbavatura, un ritardo a lezione, un ritardo durante la sveglia, durante il confezionamento del letto, bastava una sciocchezza per recuperare dei giri di barra, per cui uno alla fine della giornata, durante il periodo di studio, si vedeva, la scena era quella della fila degli allievi, vicino al brigantino, per svolgere, durante le ricreazioni, perché non è che si faceva durante l'ora di studio, le ricreazioni venivano impiegate a fare questi giri, che avevano però, ecco, al di là di richiamare l'allievo sulla, su una maggiore puntualità, su una maggiore perfezione, eccetera, sulle regole, diciamo, quello era lo scopo, non era assolutamente punitivo, nel senso che nessuno ce l'aveva con l'allievo, tutt'altro, ma aveva anche lo scopo, soprattutto il giro di barra, di impratichire molto gli allievi, perché tanto le punizioni le prendevamo tutti e in maniera piuttosto consistente, di allenare, addestrare questi allievi sempre più a salire sugli alberi, sulle vele per poi trasferire questo know-how, diciamo, questo allenamento in pratica quando si imbarcava sul Vespucci durante il primo anno, la prima crociera estiva, per sbrogliare le vele o per recuperarle con i posti di manovra, quindi aveva uno scopo addestrativo notevole, devo dire, quindi la vita diciamo era sicuramente dura, impegnativa, ma era anche, aveva anche dei risvolti sicuramente anche queste punizioni che poi nel tempo sono state in qualche modo edulcorate relativamente, anche se io non ero assolutamente d'accordo per certi versi, perché avevano questo scopo, soprattutto lo scopo addestrativo, lo scopo di allenare i ragazzi per la vita, per l'attività futura, che comunque si presentava alla fine dell'anno. Quindi la vita, come ho detto, era sicuramente impegnativa, c'erano tutti, al mattino si facevano quelle 5-6 ore di attività istruzionale, secondo programmi che erano paritetici, erano uguali a quelli dell'Università di Pisa, sia per la parte Stato Maggiore, ma soprattutto erano uguali per la parte ingegneristica, cioè degli ingegneri navali o elettronici che avevano gli stessi, esattamente, gli stessi docenti che insegnavano all'Università di Pisa e anzi parecchi erano quelli che insegnavano e avevano accolto questo stare in Accademia come docenti, alcuni a metà strada fra Pisa e l'Accademia, altri direttamente erano diciamo dipendenti organicamente dall'Istituto. gli studi erano ovviamente riconosciuti in maniera paritetica in tutte le università. Noi avevamo come allievi ovviamente dopo il quarto anno gli ingegneri andavano alle varie università o di Pisa o Genova per ingegneria navale, Trieste o Napoli al Federico II e lo Stato Maggiore dopo i quattro anni allora non prendeva una laurea anche se il numero degli esami era tale che mancavano quattro cinque esami per fisica per la laurea in fisica per la laurea in matematica ma di fatto bisognerà attendere devo dire quando io sono diventato comandante dell'Accademia in cui dopo tanti anni siamo riusciti a dare valore agli studi fatti in Accademia senza sconti e senza premi ma a valorizzare gli studi fatti in Accademia e quindi anche lo Stato Maggiore nell'ambito delle 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 scienze della difesa e sicurezza ha potuto conseguire la laurea in lo Stato Maggiore in scienze marittime navali continuando invece per la parte ingegneri a conseguire le lauree in quelle università di riferimento che ho appena detto quindi però questa era solo una componente l'altra come ho detto era la parte educazione cioè predisposizione verso da un lato verso la vita militare dall'altro con tutte quelle attività di tipo sportivo marinaresco che consentivano all'allievo come all'allievo universitario di dedicare metà della giornata almeno ad attività che poi fossero propedeutiche all'attività lavorativa che poi avremmo fatto in Marina e tra queste attività ce ne sono tantissime che allora tra l'altro erano fatte in maniera molto più naturale ecco direi con anche uscite con imbarcazioni tipo dragamine per iniziare questi allievi a fare il punto nave il punto nave davanti a Torre Calafuria o Torre Romito dalle parti di Livorno ma che poi ecco anche lì una delle iniziative che nel tempo nel 2000 venne concretizzata era quella di avere un simulatore di plancia dove gli allievi anziché andare in 30 40 su un dragamine e quindi litigare per avere un rilevatore per prendere un rilevamento di un punto cospicuo costiero riuscivano a invece a vedere e già a immedesimarsi con delle funzioni minimali ovviamente all'inizio immedesimarsi in quello che era la vita di una plancia di una plancia tipo corvetta tipo fregata addirittura anche dando gli ore abituandosi a dare ordini a dare cioè oltre a fare la navigazione costiera quindi diciamo c'era un aspetto una serie di attività collaterali che non erano collaterali dedicate alla parte chiamiamola attitudinale oltre a quella istruzionale propriamente detta certamente l'accademia aveva diciamo in questi quattro anni aveva un compito fondamentale in proiezione quadriennale era quella di formare il marinaio i ragazzi cioè abituati a andare per mare il militare perché non dimentichiamoci che da militari da buoni allievi noi abbiamo dovuto rimpostare la nostra vita cioè quando uno dice bisogna iniziare un percorso diverso a partire dal saluto il civile dal buongiorno il militare porta la mano al berretto e saluta quindi a partire dal saluto ad arrivare alle attività quotidiane di ogni giorno che sono veramente serrate il nemico dell'allievo cos'è è il sonno è la stanchezza non è non è il fatto di essere poco motivato anzi tutt'altro il combattere col tempo anche se poi ecco in accademia non si può portare l'orologio è una una perché perché non c'è bisogno lo scorre del tempo viene impostato e organizzato a livello diciamo centrale quindi l'orologio sarebbe solo d'intralcio in certe manovre marinaresche e comunque non è che ognuno si guarda al proprio orologio per fare la propria attività l'attività è ripeto di compagnia è coesa non è singola non è mai singola l'allievo non porta l'orologio perché lo scandire del tempo gli viene dato dall'organizzazione interna dell'accademia può essere una cosa all'inizio può apparire singolare un po' come singolare è stato togliere il telefono agli allievi negli anni parliamo degli anni 2000 quindi inizialmente era una cosa abbastanza strana poi è diventata come tutte le cose diventano routine diventano cose di cui si capisce anche lo scopo l'irrazionale come il telefono è inutile che tu telefoni alla mamma o al dicendo quello che stai facendo in un ambiente militare perché come dicevano il primo dei comandamenti dovrebbe essere come era durante la guerra stai zitto e invece se gli si lascia il telefonino è difficile nel nostro periodo non esisteva proprio perché non esisteva esisteva il telefono ma un telefono pubblico quindi però ecco lo scopo dell'accademia in finale è quello di costruire nei quattro anni il marinaio con lezioni da una parte simulatori che adesso uscite in mare evidentemente che sono quelle che incidono maggiormente per avere una sorta di abilitazione poi a stare in plancia su una nave da guerra il militare uno inizia ci diventa anche se non è abituato fino allora fino a qualche anno prima a rispetto all'ordine all'ordine e al rispetto reciproco perché stando in una comitiva in una compagine chiaramente il rispetto e quindi il militare ho detto prima dal saluto che cambia completamente al modo di vivere al modo anche di pensare non solo di vivere al fatto che l'accademia mette già i semi per diciamo il divenire di comandante perché già esiste con tutta una serie di attività che sono basilari da fare il capo di una piccola sezione quindi dal comandare una piccola aliquota di persone fino a arrivare a chi comanderà una nave una portaere o la squadra quindi con un crescendo in termini anche di acquisizione di piccole leadership ma piccole che poi si trasferiranno in leadership da un lato e in aspetti manageriali che sempre più viene richiesto oggi e in accademia si danno i primi direi rudimenti in maniera però molto concreta con delle esercitazioni con delle attività finalizzate a originare e a sviluppare questi questi principi sia di comandante sia di leader nell'ambito della poi della struttura della marina quindi l'obiettivo è proprio quello di costruire un individuo o di formare un individuo che al quarto anno oggi è il quinto per lo stato maggiore conseguendo anche questa laurea in scienze marittime navali dando la possibilità di conseguire una laurea e quindi anche di affrontare quelle sfide che oggi con una formazione più direi più varia nel senso che prima la nostra formazione era quasi esclusivamente ingegneristica perché era giusto che fosse così anche dal punto di vista istruzionale col tempo la globalizzazione non esisteva allora esisteva abbiamo detto questo vento sessantottino ma non esisteva la globalizzazione in quanto tale né tutti quei fenomeni associati che oggi che oggi negli ultimi 30-40 anni hanno percorso la nostra vita al Mediterraneo per quanto riguarda la nostra attività e quindi si è sentita l'esigenza in termini formativi di di acquisire anche delle nozioni delle cognizioni di relazioni internazionali cioè di fare un mix fra la parte tecnica scientifica ingegneristica e la parte chiamiamola umanistica cioè che va dal diritto diritto internazionale relazioni internazionali in termini di scienze politiche perché per affrontare modalità della comunicazione che oggi è importantissima allora non avevamo noi cioè delle delle materie che ci indirizzassero è stato un approccio nel tempo poi in maniera direi autodidatta ma sempre più queste esigenze diciamo di un mix formativo fra la parte scientifica quindi ingegneristica e la parte umanistica termini diritto internazionale molto spesso anch'io mi son trovato durante che so io l'antipirateria a dover studiare molto a fondo il diritto internazionale più che come mai le macchine facevano 300 giri con le turbine di un certo tipo anziché voglio dire giri elica perché gli altri sono giri da 30.000 giri anziché farne 29.000 ecco era molto più era diventato il mondo è cambiato è diventato molto più importante avere una formazione come dire molto più ampia molto più variegata e quello si poteva e poi nel tempo si è conseguito con le lauree le lauree specialistiche in accademia dopo l'anno 2000 certamente io dicevo ricordavo sempre agli allievi che l'obiettivo dell'accademia è quello di formare uno spirito civico anche di elevato spessore per cui noi non dovevamo mai abbiurare a promesse fatte o a vincoli diciamo istituzionali fondamentali cioè costruire costruire o partecipare alla costruzione degli individui in modo tale che nessuno venisse poi meno a quelli che erano gli impegni presi questo ce l'aveva insegnato Birindelli ma nostro padrino di corso nel corso nel 66 quando abbiamo iniziato durante il giuramento padrino di corso che è stato l'elemento diciamo che ha illuminato in qualche modo il percorso poi della nostra di tutti quanti nella nostra vita futura e quindi formare questi ragazzi nel nel senso del dovere ma soprattutto nel senso civico anche di non venire mai meno alla parola data questo era diciamo lo scopo forse l'obiettivo l'end state direbbero della nostra della nostra Accademia Navale che ritengo tuttora pur avendo lasciato il servizio da qualche anno però uno degli ultimi incarichi è stato proprio quello di comandare dell'Accademia è stato perseguito e in modo continuativo secondo la tradizione grazie a tutti grazie a tutti Grazie.